Puoi anche non rischiare niente o quasi per larghi tratti della partita, ma se non ti sforzi di proporre qualcosa, un minimo di gioco, beh poi non riesci ad arrivare al risultato. La Juventus ha gettato alle ortiche una chance colossale per vincere la partita allo Stadio della Seramica ieri sera, una vittoria avrebbe sicuramente messo in discesa il passaggio del turno che invece rimane in bilico. La Juventus dovrà vincere allo Stadium, dovrà fare quello che non è riuscita a fare ieri sera proprio per questo atteggiamento attendista e rinunciatario a cui ormai Allegri ci ha abituato. Solo Vlaovic non può bastare, ma la Juventus in questo momento è soltanto Vlaovic, un'invenzione quella del Serbo, un gol fantastico che però non è bastato, non è bastato perché la squadra non lo supporta come dovrebbe.